Pronto? Sì, sono io Anastasia Loffredini. Mario! Oh, Mario! Tu! Ma io, io, io non me l'aspettavo. Ma come? Ma tu, tu sarai impegnatissimo con il nuovo governo e hai trovato il tempo di chiamarmi. Hai bisogno di me? Ma in che senso? Non capisco, Mario. Come? Cosa? Io? Ma come, no, un tecnico dici? Ci vuole un tecnico? Ma io sono confusa, ma non lo so. Impegnata? No, impegnata no. In effetti è un anno che non lavoro. Sì, ecco sì, lo so che lo sai. Ma io, io non so, io non so se posso essere all'altezza. Ma poi, ma poi non c'è Dario, scusa, Dario è stato riconfermato, no? Come? Dario vuole occuparsi della terra. Ah, forse passa alla transizione ecologica? Ah, no, va in ritiro spirituale in un convento francescano a zappare la terra. Ah, franceschini, francescano. Ecco perché portava sempre la frangetta. Ma come mai? Ma così all'improvviso? Ma lui gli piaceva così tanto. Ha scoperto di essere allergico alle poltrone, alle poltrone, alle poltrone dei teatri e dei cinema, a quelle poltrone, tutte, tutte, di qualunque tipo. Ma una storia incredibile. Ma io, io, ma non so se... Ah, è il paese che lo chiede. Certo, certo, è per il bene del paese. Va bene, va bene, va bene, Mario, mi butto, accetto. E allora, quando devo venire per firmare? Venite voi. Oh, non ci posso credere. Va bene, va bene, grazie, Mario. A presto. Ci vediamo a Montecitorio. l'attrice Anastasia Goffredini? Sì, sono io. Da parte del Presidente. Oh, grazie. Anastasia Goffredini è il nuovo Ministro della Cultura della Repubblica Italiana. Io... aprò. Ah, sei tu, Dario? Pronto? Pronto, Mario? Dario? Sì, sì, Mario. Ho firmato. Sì, sì, sì. E allora, quando è che si apre? Quando? Stavo sognando. Ciao. Stavo sognando, vero? Ah, non sono io il Ministro della Cultura. Meno male, troppe responsabilità. No, no. Per carità, non ci tengo. Io voglio continuare a fare l'attrice. Sì. Tanto siamo tutti in giallo, hai visto? Tu sei il mio portafortuna. È tutto giallo. Il giallo è un colore bellissimo, è perfetto, perché è la luce, è uno spiraglio di luce, è vero? Io credo che col giallo ci faranno aprire. Magari non immediatamente, ma tra pochi giorni sono sicura, perché il giallo è il colore del vestito di Molière quando è morto, schiattato sul palcoscenico. Infatti il giallo è un colore odiato a teatro. No, no, ma non c'entra. Adesso tutto è cambiato, tutto è diverso. E io sono ottimista, vero? Ce la facciamo. Adesso ci prepariamo e lo sento che tra poco, sì, 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 si apre di sicuro. Chi è? L'attrice Anastasia Goffredini? Sì, sono io. Ci sono dei legali per lei da parte del CTS? Cultura, teatro e spettacolo? No, comitato tecnico-scientifico. Da parte del prof. Raccapriccialli. Lockdown. Da parte del dottor Perigliasco. Confinamento. Lockdown. Da parte del prof. Sciagalli. Amperchi. Eh? Lockdown. Ah. Da parte del prof. Crisantemi. Chiusurina totale, ta, che non si fattura più. E cioè? Lockdown. Ma come? Le varianti, erano le varianti, vero? Ecco, ci mancavano solo le varianti. E infine, un pensierino per lei. Ancora? Grazie. Oh, guarda, un teatrino. Questo è carino però, che bello. Un teatrino è da parte? Ah, naturalmente, del governo, certo. Dunque. Whatever it takes, Dario. Ah no, Mario, Mario. Dario, Mario, alle volte basta una consonante. Che bello, c'è il sipario. Si apre il sipà. Ma cos'è? No! Ma cos'è questo? Non è possibile, non è possibile. Oh. Vabbene là. Uhhh. Grazie a tutti.